Salve a tutti avventurieri, io sono Zedto e oggi voglio parlare più nel dettaglio di uno dei personaggi che vi accompagneranno all'interno della campagna di Regno Winter. Nel mio caso parlerò di Ada. Ada è una giovane cacciatrice di una delle tante tribù nomadi all'interno della grande landa dei signori dei mammut. È una vicina della famiglia di cacciatori e Ada sin da giovane ha dimostrato grande abilità nella caccia e nel combattimento. Sin dalla giovane età è sempre rimasta una ragazzina normale. Poi vicino alla pubertà ha iniziato a sentire qualcosa dentro, qualcosa da ribollere all'interno di sé. Infatti inizia a diventare più aggressiva, più spavalda, più fiera. Si infiamma, diciamo, a livello metaforico come carattere. Dopo aver dimostrato di essere una brava cacciatrice, gli vengono regalati i bracciali dell'armatura da parte del capovillaggio come segno del fatto di essere diventata una delle cacciatrici più brave della tribù. Poco dopo, all'età di 18 anni, ovvero l'età in cui tutti possono concorrere alla grande caccia, decide di sfidare l'attuale capovillaggio. Dopo averlo sfidato, quindi si parteci dalla grande caccia e consiste sostanzialmente nel portare un trofeo dell'animale più forte che si è battuti. Attualmente Ada ha portato, come trovo, la testa del Taz, che comunque, a detta del parco, ha deciso comunque di scalcare e farci una tunica. E andando avanti, comunque continuerò a vestirmi dei vari trofei, per esempio, probabilmente nella prossima sessione io squarzerò il cervo, per farmi un fiacale, come vedete qui all'interno dell'immagine, e poi come quello di Broly, che ha nel nuovo film. Che altro più da dire? Beh, sostanzialmente lei appartiene ai Suli, che è una razza che non è una diretta discendente dei geni, ma antenati di una razza di geni in grado di controllare tutti gli elementi. Questa caratteristica varia prima, in pubertà varia il carattere, appunto come Nada, che è un temperamento più aggressivo. E successivamente, solo nell'incontro in cui, con altre razze magiche e geni, si rivela. Infatti, durante il viaggio incontra il mago, mentre si dirige a Eldra, incontra il mago in forma di lupo e combattono. Dopodì capisce poi di stare a combattere contro un altro essere umano, e si incuriosisce, e combatte anche contro un... cioè incontra anche il vichingo, che è un'oreade, è un altro mezzogenio, di cui magari parlerà lui direttamente, oppure parlerò io in un altro video. Perché questo è solo su Ada. Dunque, poi il resto è storia. Perché poi arriva Eldren, e inizia tutta la solita campagna, che stiamo vedendo adesso. Spero ovviamente che non muoia, e possa andare avanti, cresce un buon personaggio.